Buon ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Io sono DGL99 E oggi parliamo un po' di calciomercato del Napoli Archiviata la Coppa Italia infatti il Napoli ci sta muovendo sul mercato Anche perché ci sono alcuni addi certi e altri incerti Tra gli addi certi c'è sicuramente quello di Arkadius Milik Che non vuole rinnovare il contratto con il Napoli E pertanto il Napoli cercherà di vendere questa sessione di mercato Per non venderlo a parametro zero l'anno prossimo Su di esso ci sono alcune squadre di Premier League e altre Serie A Come il Tottenham ma anche la Juventus di Maurizio Satri E quindi il Napoli a meno di contropartite tecniche Lo venderà per una cifra che si aggira sui 40 milioni di euro Anche se la Juve vorrebbe dare dei giocatori in cambio a Napoli Per spendere di meno o per non spendere affatto E allora il Napoli sta cercando dei sostituti Oltre a Petagna che ha già acquistato a gennaio il Napoli Vorrebbe un attaccante del Lille del campionato francese Victor Osiman Attaccante nigeriano di 21 anni Che quest'anno ha fatto molto bene la stagione 2019-2020 In quel poco che si è giocato in Ligue 1 Facendo 13 gol e 4 assist solamente nel campionato francese Pertanto Napoli potrebbe acquistarlo per una cifra alta Sicuramente alta 60 milioni Vale o no acquistare un giocatore così per 60 milioni? Allora Sicuramente Uno come Osiman Io sinceramente non lo conoscevo Però i giornali dicono che è un grande attaccante Che fa reparto da solo Che usa molto il fisico Che ha un ottimo posizionamento Quindi secondo me Uno come Osiman Comunque giovanissimo E a quanto pare forte Servirebbe a Napoli Spero sicuramente che non faccia come Ilving Lozzano Che ha deluso moltissimo E che anche lui potrebbe andarsene a fine stagione Ma Osiman vale questi soldi? Non so se vale proprio 60 milioni Però secondo me Napoli potrebbe azzardare Perché? Perché A 21 anni E un calciatore giovanissimo Anche se farà schifo Anche se dovesse far schifo In Napoli potrebbe vendere comunque una cifra abbastanza alta Non ci perderebbe tanto Se invece poi Farebbe benissimo In Napoli Avendo un calciatore giovanissimo In futuro potrebbe vendere una cifra ben maggiore di 60 milioni Quindi secondo me In Napoli in entrambi i casi Non ci perderebbe quasi niente Perché comunque Come ripeto Dato che è giovane Se dovesse deludere Potrebbe essere comunque venduto A una cifra di poco inferiore E se dovesse far bene Un calciatore così giovane Potrebbe essere venduto Anche per 100 milioni Così da guadagnare 40 Ma comunque tutto da vedere ragazzi Perché sicuramente questa tattativa non è semplice Il Lille Se potrebbe anche vendere Mi sembra che lui Smenti addirittura Questo interessamento In Napoli Anche se L'interessamento In Napoli È evidente È chiaro Non si può smentire Perché Perché comunque Milik Molto probabilmente Se ne andrà E il Napoli Ha bisogno di un nuovo attaccante Bene ragazzi Mi raccomando Fatevi sapere Se il video è stato Di vostro gradimento Mi raccomando Arriviamo a 130 iscritti Fatemi arrivare a 130 iscritti Saluto Gabriele Miorisi Miorisi Augusto Orlandi E saluterò anche gli altri Nei prossimi video Ok Bene ragazzi Il video finisce qui Auguro una buona giornata a tutti Ci vediamo nei prossimi video